Nell'Aquilano Ferragosto è grigliata o scampagnata fuori porta, ma affinché sia un Ferragosto sicuro ci sono alcune regole da rispettare. E' ancora nella memoria di tutti l'incendio del 2017 a Campo Imperatore durante la Rassegnovini a causa di un barbecue. Un incendio di vaste proporzioni per il quale furono indagate diverse persone. Niente fuochi all'aperto, ma solo braccia nei luoghi autorizzati, anche perché, oltre al rischio altissimo di incendi, ci sono pure le sanzioni. Mauro Casenghini, direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, invita tutti al rispetto delle regole. Protezione civile, volontari e carabinieri forestali del resto saranno a lavoro anche domani per monitorare la situazione. Le alte temperature di questi giorni sono molto pericolose, lo ricorda Casenghini. Tutto ciò che viene fatto al di là di luoghi organizzati e delimitati è proibito e pericoloso. Poche regole ma sicure per divertirsi e non creare problemi. Tra le regole c'è anche quella di spegnere sempre la brace, anche se sembra raffreddata, tenere i bambini lontani dal fuoco, evitare sempre la benzina per accendere il fuoco, usare, come si diceva, le aree apposite per questo. Al Ferragosto non si rinuncia e neanche agli arrosticini alla carne, ma basta rispettare questa sorta di vademecum per essere sicuri anche di non incappare in molte dal momento che ci saranno molto i controlli, sia nei posti delle scampagnate, nell'Aquilano che sulle strade.